Buon pomeriggio e buon pranzo fatto per chi lo ha finito o si è presto a finire il pranzo ricordando i nuovi auguri a tutti i lavoratori e le lavoratrici di tutto il mondo in questo primo maggio 2020 prima di venire all'anteprima di Smackdown della puntata della notte tra oggi e domani che ricordo però è stata già pre-registrata proprio venerdì scorso dopo la messa in onda live della puntata dello show blu di sette giorni fa sempre a performance center ad Orlando in Florida prima davanteprima avendo terminato di mangiare proprio alla punta dell'orario di pranzo intorno alle 13 13 e 10 ho approfittato per vedere la gara 7 del campionato Taiwan di basket serie A playoff dove purtroppo a dir poco i Taiwan Beer hanno annichilito letteralmente i Yulon vincendo il titolo 2020 comunque veniamo all'anteprima di Smackdown per quanto riguarda la puntata di questa notte vedremo Odis contro Adolf Ziegler match di qualificazione al Money in the Bank leather match la bellissima Mandy Rose contro Carmella per il qualifying Money in the Bank leather match femminile inoltre i New Day se la vedranno contro i Forgotten Sons team che è arrivato da poco in quel di Smackdown dopo aver fatto una diciamo una grande esperienza ad NXT inoltre ci saranno un po' di un confronto di diciamo di circostanze per chiarire un po' quello che è accaduto sette giorni fa tra King Corbyn Drew Gulak e Daniel Bryan ma in maniera particolare appunto tra Daniel Bryan e Drew Gulak non c'è stata la giusta intesa come di consueto concludo dicendo non ho letto nulla a riguardo di spoiler e anticipazione ma secondo me avendo visto questo lunedì a Raw la firma del contratto tra Drew McIntyre e Seth Rollins diciamo che Smackdown per il titolo universale potrebbe giocarsi la firma del contratto per il match valido per il titolo universale detenuto dal mostro Mong Meng dal mostro che cammina tra gli uomini Braun Strowman e il suo ex membro della Wyatt Family ovvero Bray Wyatt che dovrebbe combattere proprio cioè appunto in natura Bray Wyatt e non con la figura del demone The Fiend staremo a vedere anche perché comunque dopo la puntata della notte tra oggi e domani di Smackdown avremo un'altra puntata ciascuno di Raw e di Smackdown e poi finalmente sarà il momento di guardare il pay per view Money in the Bank dove ricordo ovviamente arriveranno i miei pronostici sempre puntuali sabato massima domenica della settimana prossima ovviamente in attesa di questi ultimissimi giorni di fase 1 da quarantena coronavirus pronti ad uscire sempre ovviamente con le dovute con la dovuta cautela a partire da lunedì 4 maggio grazie a tutti buon proseguimento di giornate di nuovo buona festa del lavoratore delle lavoratrici a tutti buon primo maggio alla prossima ciao a tutti buon proseguimento ciao